Ciao ragazzi, allora oggi vi chiedo un forte aiuto, Vajuma da aiutare. Allora, io sono un appassionato di calcio, come voi, no? E quindi mi piace seguire le partite, le interviste degli allenatori, i migliori allenatori che hanno fatto una storia, Murigno, Prandelli, Capello, però Vajuna goes uno, quando parla del nero non lo capisci. Vi chiedo la collaborazione, Vajuma da ranamano. Ecco, per esempio, ho sentito un'intervista dove ho registrato alcuni stracci del nero, che adesso vi faccio sentire. Radamana mano, Vajuma, che non ci capisci. Allora, la prima è questa. Allora, chiede che ci riuscite a capire. Sì, però la squadra stasera è mutulita e ha fatto una buona gara. Non lo so, Vajuma, dobbiamo risentire. Particolare? Eh, ma però se la squadra è mutulita e convinta di aver fatto una buona gara. E chi pensa che stavano in Dukam per giocare? Non è che può parlare a 90 minuti. Eh, boh. Un altro straccio, Vajuma. Un altro straccio. Eh, c'è una volta di suddare su delle sconfitte in ultimo, sì, così su cosa è importante. E chi lì che ci capite? C'è una volta di suddare su delle sconfitte, dove dire qualcosa di importante. Suddare su delle sconfitte? Ma che cazzo parlare, perché questo? Va, risentiamo. Eh, c'è una volta di suddare su delle sconfitte in ultimo, sì, così su cosa è importante. ma voglio aiutatemi ma là dove raggiunge veramente proprio la vetta della Champions del neri e questo stralcio che vi faccio sentire voglio facitelo per me Killkam riesce a tradurre questa cosa che ha detto quest'ultimo stralcio oltre a questa Killkam riesce a tradurre veramente o venga a base in mano lo faccio in un bonifico ma te l'hai una mano questo è un stralcio che cazzo è ritto cioè ma siamo sicuri teno origine italiane st'allenatore siamo sicuri che teno origine italiane o è araba e con il caravaggio che cazzo è di una cosa vi chiedo oltre a dire iscrivetevi al canale qua sotto mettete iscriviti ma poi lasciatemi un commento facitemi una traduzione non dico del di quest'ultimo stralcio che vi ho fatto sentire sennò vanno un manicò ma almeno uno dei due facitemi capire un bacione ciao ciao e sempre forza salire di nuovo ciao